Il Movimento Prima Montevarchi che andrà alle elezioni amministrative il prossimi 15 e 16 maggio appunto nella città di Benedetto insieme alla Lega Nord si presenta agli elettori e presenta un progetto preciso dietro la candidatura che sostiene Luciano Bucci. Senza dubbio Luciano è una persona che ha sempre saputo coinvolgere, sempre stato nel mezzo ai cittadini sin da tanto tempo e non solo a ridosso della campagna elettorale. Pensate che in un anno di lavoro intenso abbiamo deciso e dibattuto sugli atti consigliari. Ci siamo trovati tutte le sere in un via via crescendo di persone nella nostra sede. Persone che hanno contribuito sempre più a scrivere anche il programma e a dare concretezza alle iniziative di Prima Montevarchi. E poi Luciano stesso e come altri anche noi in lista e non ultimo io siamo sostenitori del PDL e quindi rappresentiamo la vera alternativa al centro-sinistra Montevarchi. Parliamo anche di politiche giovanili. Per quale motivo Prima Montevarchi ha scelto anche di puntare forte su questo tema? Prima Montevarchi ha proposto il programma una serie di iniziative a favore dei giovani partendo dal contributo ai canoni di locazione per i giovani che si insederanno nel centro storico. Contributo che verrà coperto grazie al recupero delle morosità sui tributi che ammontano a ben 800 mila euro nel comune di Montevarchi. Ma non solo, un contributo che Prima Montevarchi vuol dare anche ai giovani nel collegamento tra scuola e lavoro con la previsione di una consulta tra lavoro e imprese che sia un giusto liaison tra il mondo del lavoro e l'offerta di lavoro.